Va bene, quindi assegnazioni? Ah, giusto! Dai, ma dobbiamo assegnare noi? Allora io pensava, finché il poeta mi disse che pensi. Dai, lasso! Io sono sicura che bella, vuoi cominciare L'immensità che credo che la cantasse Gianni Torelli mi piace un sacco perché ha un'atmosfera, c'è l'immensità, quest'atmosfera così gigantesca e impalpabili, difficili da affrontare, no? Il secondo pezzo invece è un pezzo in inglese, molto disco. Sono in tre, ragazzi. Scusate, tu qua c'è il gu! Fichissimo! Ma è bello perché è un pezzo molto in contrapposizione con quello in italiano, perché è molto disco, molto divertente e un po' si crea della stessa contrapposizione della settimana scorsa. Forza ragazzi! Marco, puoi ballare tu? Ti possiamo mettere nel balletto? Io volevo i pappini a rotelle. Dai, dai! Ciao! Che grazie! Sarà il tuo Enzo Paolo Turchi! Non sono un ballerino professionista, però la danza mi piace tantissimo, il ballo mi piace molto. Anche alla Maionchi balla, è più strano quel ballo alla Maionchi. Però è strana perché, perché, tipo una parte alla volta. Consiglierei comunque, prima della fine di questa edizione, di fare anche una coreografia alla Maionchi, per il bene dell'audience. Visto che è una canzone da diva, questo, è l'unica donna che abbiamo, volevo fare una scalinata proprio da diva, di concetto proprio di diva, con lei che sta in cima alle scale, dove lei può scendere da questa scala mentre canta e poi magari se tu vuoi entrare, secondo me è bella questa cosa, ballicchiate insieme. Va bene ragazzi! Andiamo avanti!